Oggi parliamo di un prodotto che possa andare a dare sui miei ortaggi quando sono in fiore o quando fa troppo caldo, sulle mie piante da frutto quando anche hanno i frutti appesi. È un antifungino a largo spettro e può essere veramente il sostituto del rame dello zolfo, stiamo parlando del bicarbonato di potassio, che cosa ha questo bicarbonato di potassio? Questo sale è ammesso in agricoltura biologica, non lascia residui sulle piante, ha solo un giorno di carenza, quindi che vuol dire che tratto le piante la sera, la sera dopo posso raccogliere. Non è tossico per gli insetti impollinatori, non è tossico né per l'uomo né per gli animali, quindi posso anche trattare quando il cane o il gatto sta giocando sotto alle mie piante o addirittura ho le galline che razzolano un po' in giro e che altro dirvi, se vi ho incuriosito seguitemi il video. Ed eccoci qui a parlare del bicarbonato di potassio, questo spettacoloso antifungino, qui stiamo vedendo proprio una carrellata di foglie, una piantina che ognuna ha le sue malattie, quindi è veramente un antifungino a largo spettro che ci aiuta nell'agricoltura biologica. Una cosa a di contro, non si reperisce facilmente, quindi lo possiamo reperire o online sul web oppure in quei consorsi che trattano del vino, perché appunto è un elemento, un sale, che va aggiunta al vino quando sa un po' di aceto, quindi lo va a deacidificare, aggiunta lo 0,15, 0,3 per cento e il vino può essere bevuto, quindi se viene usato a scopo alimentare, figuriamoci se può far male quando io tratto una pianta e il giorno dopo vada a raccogliere un frutto, assolutamente no, è del tutto innocuo. Ma quali sono le malattie che riesce appunto a curare e bloccare il bicarbonato di potassio? Sono tantissime, la botrite della fragola è proprio la prima malattia, la fragola si proprio marcisce, è un marciume della fragola, ma anche tutto quanto alla parte dell'oidio, qui siamo di fronte all'oidio del goji, ma anche tutto quanto all'oidio sulle nostre articole, soprattutto sulle curcubitacee, quindi sulle zucchine, sui cetrioli e anguri e meloni, ma poi può anche essere utilizzato sulla peronospora, qui siamo di fronte alla peronospora del pomodoro, ma anche su quella del melone della melanzana, può essere utilizzato sulla ticchiolatura, della rosa, del pesco, del ciliegio, ma soprattutto sulla moniglia laxa o fruttigeno, ossia la gommosica è quella malattia che attacca i nostri alberi da frutto, le drupacee in particolare, e riesce veramente a debilitarle, addirittura i frutti marciscono e si buttano, quindi ciliegio, susino, albicocco. In più poi ha anche una blanda azione anti afidi, e quindi ci dà anche una mano in questo senso, guardate sulle malattie fungine, le varie piante, le dosi, vi lascio in fondo al video una scheda che vi riproga un po' tutto quanto, se no stiamo qui mezza giornata a parlarne. Come agisce il bicarbonato di potassio? Chiaramente è un sale, viene sciolto in acqua, viene nebulizzato sulla pianta e quindi su tutta la pianta colpita, quindi fogli, rami e frutti, si libera proprio questo agnone bicarbonato, che fa questo agnone bicarbonato e crea proprio delle condizioni avverse al fungo, quindi innalza il pH e lo blocca, poi pian piano lo disidrata e ne causa la morte, quindi proprio lo blocca e lo uccide, quindi è proprio un'attività fungistatica e fungitossica. Poi una cosa molto molto bella è che la massima efficacia è proprio in coincidenza delle condizioni climatiche avverse, quindi quando proprio piove o c'è ruggiata, lì sia proprio l'attività elevata del bicarbonato di potassio. Passiamo alle dosi e le modalità di distribuzione di questo fantastico prodotto. Le dosi, la dose massima è lo 0,5%, quindi che significa che ci vanno 500 grammi di questo prodotto in 100 litri d'acqua, o 50 grammi in 10 litri, o 5 grammi in un litro, sempre 0,5%. Vediamo anche come si presenta, eccolo qua, è simile allo zucchero, ok? Allora tanto per farvi regolare un attimino, posso un attimo questo qua, lo metto in un bicchiere, considerate per chi non ha una bilancia che un cucchiaino raso pesa 4 grammi, quindi è adatto a farci un litro di acqua, cucchiaino raso da caffè. Poi l'acqua utilizzata non deve essere mai inferiore a 800 millilitri per ettaro, quindi regolatevi voi con i vostri appezzamenti di terra e i trattamenti devono essere distanziati l'uno dall'altro almeno di 8-10 giorni. Tempi di carenza che vuol dire il periodo che passa quando io ho trattato la pianta prima di andarla a raccogliere, un giorno solamente, si tratta poi in serata quando i fiori comunque sono chiusi e comunque non andiamo a dare fastidio agli insetti impollinatori, quindi tratto la sera e la sera dopo posso andare a raccogliere i miei ortaggi o frutti. Qualche controindicazioni, sulle mele, soprattutto sulla Golden Delicious che è molto sensibile, sulla ticchiolatura è meglio trattare solamente una porzione di piante, poi ne guardiamo gli effetti e vediamo un attimino quello che succede. Anche sulla vite, soprattutto sul moscato, facciamo dei trattamenti solamente su qualche pianta e vediamo l'effetto fitotossico della pianta, ok? Poi non modifichiamo mai la basicità del prodotto e non andiamo ad utilizzare il cloruro di calcio nel piano di trattamento, ok? Poi non misceliamo il bicarbonato di potassio, con il rame o con altri concimi liquidi. Sulla pianta chiaramente trattata non si presenta nessun sintomo di tossicità alle dosi chiaramente che vi ho indicato e poi, come abbiamo detto, non è tossico per gli insetti impollinatori, quindi quando gli insetti gironzolano, se noi lo colpiamo con il getto nebulizzatore non succede nulla, cerchiamo sempre chiaramente di trattare in tarda serata, come siamo in questo momento, che anche i fiori si stanno richiudendo e gli insetti non girano. i trattamenti abbiamo detto ogni 7-10 giorni, quando ne abbiamo fatti 4-5 smettiamo con questi trattamenti, altrimenti possiamo mandare in fitotossicità comunque la pianta, quindi non andiamo ad esagerare. E che altro dirvi? Io mi sembra di aver affrontato egregiamente il discorso, vi saluto, vi ringrazio, lascio i commenti aperti e ci vediamo alla prossima ragazzi, gli ultimi 6 secondi sono sempre dedicati agli interessanti link, vi lascio la scheda dove trovate tutte quante le dosi e le piante da trattare con questo spettacoloso antifungino. Ciao ragazzi alla prossima!